che narra la triste storia di uno dell'equipaggio che si caccia sotto un sedile tira fuori un magnete e non sa assolutamente più cosa fare passare il tempo in quel modo richiede veramente grande entusiasmo il fegato di questa gente stava, come si vede, nella volontà di continuare a tutti i corsi la corsa non appena possibile per fortuna solo poche persone si ferivano gravemente tuttavia un incidente ad Anchor Bridge è diventato leggendario l'equipaggio dal luogo dell'incidente venne trasportato all'obitorio e si dice che quando il pilota venne deposto sul freddo marmo si sia alzato indignato e abbia chiesto dove fosse la sua automobile